Comunque la condanna o l'assoluzione dell'ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, gli scenari e ancora, eccoli, sono entrati, stanno entrando in questi istanti. Allora alziamo assolutamente l'audio, i tre giudici, Giulia Turri, la Presidente, sentiamo. Il Tribunale ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente sentenza. E lo condanna alla pena di anni sette di reclusione, all'interdizione perpetua dei pubblici uffici, all'interdizione legale per la durata della pena. Condanna inoltre l'imputato al pagamento delle spese processuali. La motivazione della sentenza sarà depositata entro 60 giorni. L'udienza è tolta.